Ciao amiche, ciao amici, vediamo sesso e cibo, quattro personalità diverse. Allora, il modo in cui una persona mangia è legato al modo con cui una persona fa sesso. Sono stati identificati quattro tipi di personalità, diciamo, che correlano il sesso col cibo e quindi se tu vedi come mangia una persona puoi scoprire come fa sesso. Allora, abbiamo la personalità fuoco, che è quella che mangia velocemente e confuoga. Tende a fare sesso in modo molto focoso, ma ad esempio con scarsi preliminari, buttandosi, diciamo, deciso, ma finendo comunque tutto sommato abbastanza presto. Poi abbiamo la personalità aria, che, diciamo, si vuole sempre sperimentare cibi diversi, varia sempre, in un unico pranzo sperimenta tante cose e preferisce sempre cose nuove. Tende a vivere dei rapporti mordi e fuggi, cioè non instaura relazioni a lungo termine e dopo aver consumato, diciamo, anche abbastanza in fretta, si allontana. Abbiamo poi la personalità acqua, che invece mangia molto lentamente e preferisce cibi molto delicati. È una persona che tende a fare l'amore in modo lento, calmo, con molti preliminari, dà molto spazio ai preliminari e soprattutto con coccole sensuali, diciamo, un sesso più dolce, raffinato come gioco. E poi abbiamo la personalità terra, che invece sceglie sempre cibi che già conosce e più o meno sempre gli stessi, ha poca variazione, diciamo, nella scelta e si basa sempre su cose che già conosce, che già ha sperimentato. È una persona che, diciamo, non ama molti preliminari, ma va al sodo, diciamo così, e mantiene, tende a mantenere rapporti stabili e duraturi. Bene, per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposta. Se il video ti è piaciuto, metti un like e condividilo con i tuoi amici. Ciao!